E dunque il cartello sociale agrigentino tramite sorce, busce, migallo, acquisto e pezzino, in rappresentanza della diocesi, CGL Cislewille invita la cittadinanza e gli amministratori locali a partecipare alla manifestazione del prossimo sabato 17 giugno contro la privatizzazione e la bassa qualità dei servizi sanitari. Raduno in piazza Cavour alle ore 10 e poi corteo lungo il viale della Vittoria fino a Porta di Ponte dove saranno ascoltate alcune testimonianze. Poi sarà consegnato un documento al prefetto romano sulle ragioni dell'iniziativa a difesa del diritto alla salute di tutti. Ecco un video a sostegno dell'iniziativa che tra l'altro trae spunto da un recente report trasmesso su Rai 3 da carta bianca. Grazie per la visione! Grazie per la visione!